La guerra finirà presto Noi ce ne andiamo L'appuntamento è stanotte all'università con il suo montatore Sarà lui a portarci a Beirut Pensavo di aspettare che tornasse mio marito per dirti che noi questa notte partiamo Ti amo Perché guardi sempre fuori? Non dovresti pensare a quello che c'è al di là della finestra Vieni andiamo Mettetevi al riparo Yara, Alia Questa casa appartiene a me e nessuno riuscirà mai a mandarmi via Nessuno mi caccerà da qui Adesso andate via Sei una donna coraggiosa Siamo tutti coraggiosi Questa casa appartiene a me e nessuno riuscirà mai a mandarmi via